Ciao amici miei amici, benvenuti in volta, sono david Cortese e questo è il mio sito www.david-cortese.com Nel video vi parlerò di storia e feature del javascript, quindi cominciamo Historia e feature del javascript Qui c'è un paper dettagli sulle storie e feature del javascript, quindi l'introduzione Javascript è una lingua di scripting o programma che ti permette di implementare feature complexe sulle pagine web. È una delle tre lingue core usate per sviluppare due siti web, con html e css. Javascript è principalmente una lingua cliente, che significa che funziona sul tuo computer, dentro il tuo browser. Inoltre, più recentemente, l'introduzione di Node.js ha aiutato il javascript anche per eseguire codi su servizi. Historia del javascript Il javascript è stato sviluppato da Brendan Aik in circa 10 giorni, in mei 1995. La lingua, fondamentale chiamata come Mocha, era poi modificata a LiveScript e è ora chiamata semplicemente come Javascript. È stato creato per essere usata sul cliente delle siti web, iniziando l'addition di componenti dinamiche e interattive componenti interattive per stati html. Quindi, era creato per essere usata sul cliente delle siti web, iniziando l'addition di componenti dinamiche e interattive componenti interattive per stati html. Javascript era inizialmente implementato in Netscape Navigator, che era il browser più popolare al tempo. La lingua era inizialmente adottata da Microsoft per usare in Internet Explorer. Due a sua semplicità di usare e il fatto che era l'unica lingua di cliente di scripting disponibile al tempo, Javascript è inizialmente ottenuto popolarità tra i sviluppatori web. Feature del javascript Secondo. L'anguazione interpretata L'anguazione interpretata è una lingua interpretata, significa che non bisogna essere compilata prima di che possa essere eseguitati. Quindi, il javascript è un linguaggio interpretata, significa che non bisogna essere compilata before it can be executed. Dynamic Typing. JavaScript is dynamically typed which means that variables can change their type at runtime. Object Centered Scripting Language. JavaScript is an object centred scripting language. It gives the user extra control over the browser with potential in the creation of new functions in scripts. Client Age Technology. JavaScript is mainly a client age scripting language. This means it runs on your computer within your browser. Validation of user's input. JavaScript is mostly used for validation in client age technology. Health and if statements. JavaScript allows more abilities to perform as HTML is only capable of designing websites and incapable of performing logic operations like condition checking, statements looping like while and for, statement decision making like else and if at client age. Inbuilt function. JavaScript can help to build more interactive websites, developing inbuilt clocks like client age programs, building windows pop up with different dialog boxes like alerting dialog boxes, confirmation dialog boxes and prompt dialog options. Case sensitive. JavaScript features case sensitive input. Lightweight. JavaScript is a lightweight programming language. Handling events. JavaScript can handle events. Conclusion. JavaScript is a powerful and versatile language that has become an integral part of the web. Its ability to add dynamic and interactive elements to websites has revolutionized the way we interact with the web. Despite its humble beginnings, JavaScript has grown to become one of the most popular and widely used programming languages in the world. For now is everything. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.